Merhaba, benvenuti a Vadimekun per le imprese sul paese Turchia della Camera di Commercio di Torino. La Turchia è uno stato che occupa una posizione geografica unica, essendo situata in parte in Asia, la cosiddetta Penisola Anatolica, e in parte in Europa, la Regione della Tracia, e nel corso della sua storia ha avuto una funzione sia di barriera sia di ponte tra i due continenti. Infatti ha ospitato una varietà di popolazioni e civiltà, dai persiani e romani ai bizantini e agli ottomani, che hanno portato ad una pluralità linguistica, etnica, religiosa e culturale, nel territorio che corrisponde all'odierna Turchia. Questa occupa una posizione strategica grazie allo sbocco sui principali mari, Mar Nero, Egeo e Mediterraneo, e ai suoi confini, a nord con il Mar Nero, a nord-ovest con la Bulgaria e la Grecia, a ovest con il mare Geo, a sud con il mare Mediterraneo, la Siria e l'Iraq, a est con l'Iran, l'Armenia e la Georgia. È uno dei paesi più grandi della regione in termini di territorio e popolazione, e la sua superficie più grande di quella di qualsiasi stato dell'Unione Europea. Infatti si ritrova ad essere paese candidato all'Unione dal 1999 di maggiori dimensioni. La capitale, Ankara, si trova al centro del paese ed è la sede del governo e suo centro amministrativo, oltre che la seconda città più popolosa dopo Istanbul, che invece è considerata al centro industriale e finanziario del paese. La Turchia è divisa in sette regioni, definita in occasione del primo congresso di geografia tenutosi nel 1941 ad Ankara, in base all'omogeneità di condizioni climatiche del territorio. Queste si articolano amministrativamente in 81 province, suddivise a loro volta in distretti, per un totale di 923. La questione del decentramento amministrativo è molto rilevante in Turchia, dove le grandi città assumono sempre più un ruolo cruciale nel controllo e nella gestione del territorio. La densità della popolazione al loro interno è piuttosto difforme. Le punte massime si registrano nella regione di Marmara e dell'Egeo. Densità molto più esigue risultano invece nelle regioni distanti dal mare, fino a livelli più bassi dell'Anatolio orientale. Nel corso della presentazione vedremo poi come queste regioni si differenziano fortemente sia per la composizione etnica sia per lo sviluppo economico. La Turchia è una repubblica presidenziale dal 1923, fondata da Mustafa Kemal Ataturk, personaggio carismatico che sottopose il paese a un programma di radicali riforme di laicizzazione e modernizzazione. Dalla nascita della repubblica si sono susseguiti vari governi e anche alcuni colpi di Stato. Nei primi anni 2000 salì al potere il Partito di Giustizia e Sviluppo, AKP, il cui leader, Recep Tayyip Erdogan, è stato primo ministro dal 2003 fino al 2014, quando è diventato presidente della Repubblica, il primo eletto a suffraggio universale. Il partito, nonostante all'inizio abbia manifestato una posizione filoeuropeista e favorito l'economia di mercato, resta profondamente legato ai valori della religione islamica. Erdogan, infatti, ha abbandonato la priorità strategica di ingresso nell'Unione Europea, portando avanti piuttosto una politica di apertura verso il vicinato orientale. Ciò è coinciso con un processo di reintroduzione dell'Islam come perno del sistema statale. A livello internazionale, la Turchia svolge un ruolo fondamentale all'interno della NATO, in cui rappresenta la seconda più grande forza armata permanente. I rapporti con gli Stati Uniti al momento vivono una fase piuttosto tranquilla e altrettanto positivo il rapporto con la Russia. Partono è strategico per la cooperazione energetica e la sicurezza. Attualmente la crisi umanitaria migratoria siriana e la lotta al presunto terrorismo kurdo restano i maggiori problemi del regime. Vi sono state poi tensioni recenti riguardo l'intervento militare del paese nella guerra in Libia. Dal punto di vista economico, la Turchia ha conosciuto una notevole espansione negli ultimi anni, collocandosi secondo Goldman Sachs e il Fondo Monetario Internazionale tra le più importanti economie del mondo. Il paese, infatti, ha avuto una crescita sostenuta fino alla crisi economica del 2008, che ha provocato una lieve flessione, ma già nel 2010 è stata registrata una forte ripresa con una crescita del PIL fino al 2017, con la quale la Turchia si è posizionata al primo posto tra i paesi del G20, di cui è membro fondatore. La crescita ha poi subito un rallentamento nel 2018, dato anche dalle tensioni valutarie e dalla politica monetaria restrittiva adottata dalla Banca Centrale per contenere l'inflazione. Oltre alla volatilità della valuta nazionale, gli alti tassi di inflazione e la disoccupazione rimangono tra i principali problemi dell'economia turca. Il PIL turco è composto per la maggior parte dal settore terziario, seguito dall'industria e dalla produzione agricola. La Turchia esporta prevalentemente tessili, metalli di base, attrezzature di trasporto e macchinari, prodotti agroalimentari, mentre importa prodotti chimici, risorse energetiche e macchinari. La figura sulla quota del PIL a livello provinciale, considerando come il più recente anno di analisi del 2018, mostra come il paese è caratterizzato da una struttura territoriale piuttosto squilibrata. Si riscontra infatti una maggiore attività produttiva nelle aree di Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa e Antalya, mentre è inferiore nella zona orientale. Per quanto riguarda l'analisi settoriale per regioni, si può notare come il settore agricolo è più sviluppato nell'Anatolio orientale. La produzione industriale invece si concentra nella zona occidentale e in particolare la provincia di Bursa risulta essere la più idonea e quella con la maggior presenza di aziende italiane inserite nel settore, soprattutto nell'automotive. Infine, il settore terziario riscuota una percentuale consistente su tutto il territorio, soprattutto nella regione di Marmara e nelle zone più turistiche della costa mediterranea ed Igea. I rapporti economico-commerciali con l'Italia vedono una lunga storia di collaborazione positiva e nel 2019 l'Italia si conferma quale quinto partner commerciale della Turchia. Ad inizio anno l'interscambio tra i due paesi ha segnalato un aumento del 2,1% rispetto al primo trimestre del 2019, con un calo delle importazioni dell'8,5% ma un aumento delle esportazioni del 16,2%. Il 98% delle esportazioni italiane è legato ai prodotti manifatturieri, prima fra tutti l'esportazione di macchinari e apparecchi con il 19,5%, un 26% in più rispetto al primo trimestre del 2019. seguono poi i mezzi di trasporto, i prodotti chimici, i prodotti in metallo e i prodotti petroliferi. Sul versante delle importazioni, i principali prodotti importati dalla Turchia sono i mezzi di trasporto, i prodotti in metallo, i prodotti tessili ed in pelle. Concentrando il nostro focus sulla regione Piemonte, che detiene il 12,1% delle esportazioni italiane verso la Turchia, vediamo in tabella che rispetto allo scorso anno nel primo trimestre i dati sono in crescita del 9%, portandosi sul peso nazionale al 14%. I principali prodotti esportati sono i mezzi di trasporto, che hanno avuto però un calo del 12,8%, seguono poi i macchinari e gli apparecchi, i prodotti tessili ed abbigliamento, i prodotti in metallo, i prodotti chimici, gli apparecchi elettrici, gomme e materie plastiche, settori che hanno registrato tutti un consistente aumento. In particolare, abbiamo analizzato l'interscambio tra la Turchia e la città metropolitana di Torino, che ha raggiunto il suo valore più alto nel 2016, per poi decrescere costantemente e raggiungere il suo minimo nel 2019. Tuttavia, i risultati del primo trimestre 2020 evidenziano un lieve aumento dell'interscambio del 10,2%, nonostante le problematiche relative al Covid-19, ma bisognerà comunque aspettare i dati del prossimo trimestre per confermare questa ripresa. Anche per quanto riguarda la città di Torino, i prodotti maggiormente esportati sono quelli derivanti dalle attività manufatturiere ed i mezzi di trasporto detengono il primato come prodotto torinese più esportato in Turchia. In generale, tutti i prodotti presentano un aumento considerevole nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso dell'anno precedente. L'analisi SWOT evidenza i principali punti di forza e debolezza, così come le potenziali opportunità e minacce che il Paese Turchia presenta. Questo gode di una posizione strategica e di una popolazione giovane, che gli consentono di avere un'economia dinamica con varie opportunità soprattutto nel settore delle fonti rinnovabili. Tuttavia, il contesto economico deve fare i conti con le barriere tariffarie e la forte instabilità politica. Passando poi all'ambito socioculturale, la popolazione turca presenta, con una crescita superiore alla media europea, una popolazione giovane ed un tasso di fecondità che invece va riducendosi, anche grazie al più elevato tasso di istruzione femminile. È importante notare le differenze etnico-confessionali che la costituiscono. Infatti, l'impero ottomano, nella sua politica espansionistica, sviluppò una sostanziale tolleranza nei riguardi delle diversità culturali, sociali e religiose delle popolazioni presenti nel suo territorio, che infatti sono tuttora presenti. La parte etnicamente turca risulta essere solo due terzi circa del totale, mentre i kurdi sarebbero circa il 19% e numerosi altri gruppi, come azzeri, arabi e armeni, rappresenterebbero circa l'1% ciascuno. Tuttavia, nonostante la presenza kurda sia notevole, le uniche minoranze riconosciute come tali, secondo il Trattato di Losanna del 1923, sono quelle armena, greca ed ebraica. Di conseguenza, quindi, i kurdi vivono una situazione socio-economica più difficile rispetto al resto della popolazione e sono vittime di discriminazioni nell'istruzione e nel mondo del lavoro. Nel 2013 la Turchia ha permesso l'insegnamento della lingua kurda nelle scuole private e una relativa autonomia culturale. Tuttavia, l'evoluzione della politica regionale e la graduale stretta autoritaria di Erdogan ha visto l'imposizione di nuove restrizioni, che si sono rafforzate con l'avvento dello Stato islamico. Oltre alle numerose minoranze etniche, in Turchia sono presenti anche numerose minoranze linguistiche, che però non vengono riconosciute, e la lingua ufficiale è quella turca. La Turchia è, ufficialmente, uno Stato laico, la cui Costituzione prevede la libertà religiosa, e la religione prevalente è l'Islam. Questa viene praticata in modo diverso all'interno del territorio, con una maggiore osservanza nella parte orientale del paese. Infatti, la società rispecchia forti divisioni, sia a livello di osservanza religiosa, sia rispetto ai diversi usi, costumi e tradizioni diffusi nelle varie regioni, con la presenza di zone più occidentalizzate ed altre meno. Nel suo complesso, però, è caratterizzata da un forte collettivismo e mantiene una struttura piuttosto gerarchica all'interno delle varie istituzioni, famiglia compresa. Inoltre, anche l'esercito è un'istituzione importante, in quanto ha sempre avuto un ruolo di primo piano nella formazione dello Stato. Il servizio militare rimane profondamente radicato nella cultura turca ed è attualmente obbligatorio. La cultura turca, grazie al multietnico impero ottomano, ha avuto molteplici influenze e mescola tratti della cultura occidentale e di quella orientale, che in base a diversi momenti storici hanno influito sulla formazione dei vari aspetti culturali, dalla letteratura all'architettura, alla tradizione culinaria e l'aspetto culturale ha un forte impatto anche sulle questioni d'affari. Un semplice esempio di un tratto peculiare della vita quotidiana e della tradizione turca è che l'inizio di ogni incontro, sia lavorativo che non, sia accompagnato da una tazza di tè, il cosiddetto chai, che non bisogna rifiutare in quanto è segno di ospitalità. Il primo requisito fondamentale per poter trattare con un imprenditore turco, così come nella vita di tutti i giorni, è non avere fretta. La popolazione turca si distingue sì per la sua generosità ed operosità, ma soprattutto per la calma con cui vengono affrontate le questioni. Non bisogna andare dritti al punto, ma dare spazio alla conversazione e alle domande, anche personali. Quasi sempre, infatti, i primi incontri sono più social che business oriented e fare domande sulla cultura e storia turche è sicuramente ben visto. In generale, infatti, i turchi sono molto patriottici e soprattutto grandi appassionati di calcio. Anche per queste ragioni è bene non affrontare questioni politiche o storiche particolarmente spinose o percepite come tali, come per esempio il genocidio armeno, la questione kurda o il recente colpo di stato di cui è stato accusato Fethullah Gülen. Poi, per iniziare trattative con una controparte turca, è essenziale ottenere un elemento chiave, la loro fiducia. Il processo di negoziazione può durare a lungo perché è importante costruire prima una relazione personale, per far sì poi che gli interlocutori acquisiscono confidenza e rispetto nei nostri confronti. È importante mantenere il contatto visivo durante i meetings, poiché aiuta a costruire la relazione. Non bisogna inoltre usare deadline o tattiche di pressione, perché porterebbero solo risultati negativi e la controparte potrebbe rigirarle a suo favore. La società turca è caratterizzata da una forte struttura gerarchica. Si deve quindi mostrare rispetto per i più enziani e salutarli per primi. Si può anche notare come, nonostante i processi di globalizzazione, molte imprese siano ancora condotte su base familiare. Bisogna poi prestare attenzione all'aspetto religioso, componente molto sentita nelle zone più orientali e rurali della Turchia, dove la popolazione è una matrice più conservatrice. È preferibile perciò non fissare incontri durante il Ramadan, il periodo del digiuno, non ordinare maiale o alcol ad un pranzo di lavoro e mostrarsi rispettosi verso le tradizioni. Soprattutto nelle zone rurali e nella Turchia anatolica, occorre anche tenere presente il differente posizionamento della donna. Qui il suo ruolo è prevalentemente quello di madre e moglie e cambiano anche gli usi nell'abbigliamento, con l'utilizzo di abiti tradizionali e del velo. Nonostante le varie campagne per promuovere l'istruzione femminile, la società turca resta caratterizzata dalla presenza di un modello patriarcale e vi sono ancora disparità di genere, soprattutto in ambito occupazionale. Un ultimo aspetto importante è quello riguardante la comunicazione non verbale. Questa infatti è piuttosto differente dalla gestualità italiana. Per esempio, contrariamente a quanto siamo abituati, scuotere la testa non significa no, ma semplicemente il non aver capito. Mentre per dire no si fa un cenno con la testa dal basso verso l'alto, alzando i sopracciglia, spesso facendo schioccare la lingua. È necessario quindi approfondire i vari aspetti della cultura turca per poter evitare incomprensioni e riuscire a costruire relazioni lavorative longeve. Sulla slide troverete alcuni link utili per avere maggiori informazioni sulla Turchia. Grazie per la vostra attenzione e a presto! Grazie per la visione!